Il premier francese, il presidente francese François Hollande, l'altro ieri, ha così rappresentato la crisi europea, i grandi problemi che l'Europa e i singoli stati, le singole nazioni stanno affrontando, e ha detto che l'austerità, quella che noi conosciamo più comunemente con il rigore, significa condannare l'Europa all'esplosione, parole forti, montare i populismi, gli egoismi nazionali, e poi dice avete visto quello che è successo in Italia. Perché parto da questa considerazione del presidente francese? Perché se lo diciamo noi è sempre che lo facciamo per un interesse nazionale, per difendere, per difendere il nostro paese, per recuperare risorse, per dire che l'Europa deve essere più attenta alle realtà nazionali che sono in maggiori difficoltà. Però ne approfitto per dire questo utilizzando le parole del presidente francese per rivolgere, e rivolgere soprattutto il mio saluto, è un saluto di ospite, nella logica dell'accoglienza, nella tradizione della straordinaria accoglienza della nostra regione, del nostro paese, della nostra Italia, ma della nostra Campania, alla cancelliera Merkel, che avrà qualche giorno di riposo, meritato, dico io, riposo, nella nostra bellissima Ischia, uno dei più bei posti della nostra regione. La nostra regione è straordinaria tutta per accoglienza, e tra l'altro la cancelliera Merkel non fa che ribadire, riconfermare la straordinaria tradizione di presenza, in particolare del popolo tedesco, qui in Italia, per turismo, per cultura e per altro, che è una tradizione di molti secoli. Quindi siamo contenti, felici, e la salutiamo veramente tutti per aver scelto ancora una volta l'Italia, per aver scelto la nostra regione, per aver scelto Ischia, per passare qualche giorno di riposo. Però, detto questo, non possiamo non dire qualcos'altro. Cioè, questa occasione ci deve anche far riflettere di cosa noi vogliamo fare, cosa intendiamo noi per un'Europa, che sia l'Europa delle nazioni, l'Europa dei popoli. Beh, e allora che mi viene da dire? Ischia è straordinaria. Mi verrebbe però di dire alla cancelliera Merkel di guardare anche, non posso invitarla per questo, per esempio in qualche nostro quartiere difficile della nostra regione, dove il livello di disoccupazione giovanile ha un rapporto con la sua Germania di un disoccupato giovane in Germania, qui ce ne sono dieci giovani disoccupati campani. Oppure qualche nostra area di crisi, perché questa crisi poi fa fallire le imprese, le fa chiudere, fa chiudere i cantieri, le ripercussioni sul sociale, siamo ai limiti della rottura sociale. Possiamo permetterci questa doppia Europa? Il sentimento antitedesco lo dobbiamo alimentare? No, noi dobbiamo combattere questi sentimenti contro gli altri. Però qualche riflessione, in particolare la cancelliera Merkel deve fare, il paese più forte che gode oggi dei benefici della crisi degli altri? Beh, questo non è un'Europa che può continuare. E se il richiamo in questo momento non è solo stare in una straordinaria location come Ischia, ma guardarsi attorno e guardare i problemi veri che questo paese è un pezzo dell'Europa, soprattutto un pezzo dell'Italia, un pezzo dell'Europa meridionale, il sud dell'Italia, la Grecia, abbiamo visto la vicenda di Cipro, la Spagna. Bene, queste questioni dobbiamo avere il coraggio di affrontarle. E non ci può non essere un richiamo, è una considerazione a un paese forte, che può decidere di cambiare, di dare la disponibilità a cambiare questa politica di rigore assoluto e di austerity assoluta. Ma facciamo, diamo la possibilità di utilizzare in termini di crescita, di sviluppo, di fare l'Europa un'Europa che sa anche rischiare quando sa che i problemi sociali, i problemi occupazionali, la propria crisi può finire per creargli dei problemi in termini proprio di visione complessiva. Quindi non è un modo per dire, non si goda come deve godersi questi giorni di riposo, ma che anche questi giorni di riposo in questa nostra straordinaria regione li facciano vedere, e io li rappresento, i problemi che viviamo insieme. Se l'Europa deve reagire, lo deve reagire comunemente, lo deve fare l'Italia, lo dobbiamo fare noi, ma lo devono fare soprattutto chi oggi ha più forza, sta meglio degli altri. E quindi un richiamo alla grande nazione della Germania, ai suoi leader, a tutti i leader europei, di consentire al nostro Paese, all'Europa, di crescere con equilibrio ed equità.